Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di TeleItalia. Rocco Crimi, detto Vito Crimi, il capo politico dei 5 Stelle, interviene sul tema raggi appendino e la loro ricandidatura. Sapete che i 5 Stelle hanno il vincolo del secondo mandato e vorrebbero toglierlo per permettere alla raggi, all'appendino, di nuovamente concorrere per la poltrona di sindaco. Rocco Crimi dice, serve una riflessione sul tema del mandato zero. Dalla nostra regola dei due mandati andrebbero esclusi i sindaci. Credo che il mandato zero per loro debba valere. Non è in discussione invece il limite dei due mandati per quanto riguarda i parlamentari. Per quanto riguarda invece il codice appalti, per Crimi va semplificato assolutamente. Abbiamo già iniziato a farlo con lo sblocca cantieri, dimezzando i tempi, attuando procedure semplificate. Passando alla giustizia per il capo politico del Movimento 5 Stelle, oggi non si tratta di abolire il reato di abuso d'ufficio, ma di far sì che nessun dirigente si trovi con la paralisi della firma, perché sa che ogni atto sarà sindacabile anche in modo eccessivo se le gare sono fatte più velocemente, rimanendo attenti alle normative ambientali e antimafia. Allora va bene. Sugli spostamenti dobbiamo avere massima cautela, dice. Abbiamo fatto sacrifici enormi, soprattutto in Lombardia. E considerando che è ancora una zona fragile, credo che un piccolo sacrificio si possa ancora fare, magari autorizzando spostamenti tra aree limitrofe. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.